la fascia sinistra prova un dribbling sull'avversario poi prova il tunnel perde il pallone interviene comunque il capitano che porta il pallone calcia carica la botta non devia nessuno il pallone sarà semplicemente rinviato al fondo è pressata è crostretto a tornare indietro palla in vertica la tensione contropiata da parte dell'euro che prova a fare tutto da solo caccia in porta e trova la rete dell'1-0 il numero 7 buontempi 1-0 in favore dell'euro 1942 da parte di Pinnicchi mette in rivessa laterale c'è Mariti con le mani prova a calciare il numero 7 a un passo dall'1 pari ti riesce comunque a tenere botta punta gli avversari in salta 1 vince un rimpallo scarica dalle parti del numero 9 che si allarga caccia in porta non inquadra allo specchio della porta il 2-work sport alla fine di questo primo tempo questo primo tempo che vede in vantaggio l'euro 1942 che adesso riesce a guadagnare il pallone finisce il primo tempo tra euro 1942 e 2-work sport e risultato è quello di 1-0 in favore dei padroni di casa 1942 alla verticale interviene il capitano dell'euro palla subito a servire il movimento attenzione al tiro da parte dell'attaccante del 2-work sport che non è andato lontano dai pali la battuta di questo pallone adesso arriva anche il capitano dell'euro 1942 alla battuta del calcio di punizione direttamente in porta e trova la rete del 2-0 Costantini deve reagire perde il pallone Costantini lungo l'auto di destra sprinta e poi stersa sull'avversario a servire Delli Colli che potrebbe anche calciare da Martinelli che calcia in calcio d'angolo Cipriani Palla sul destro da parte di Cipriani che supera il centrocampo palla in verticale bello lo stop di Rossi che calcia la parata del portiere dell'euro 1942 Mangano a battere il calcio di punizione dalle parti del numero 5 non c'è alcun contatto in area di rigore Costantini carica la botta Costantini fuori il pallone dentro l'area di rigore del 2-work sport due giocatori al limite dell'area il quarto Costantini in porta il pallone che finisce in rimessa laterale Giannelli pronta a calciare direttamente in porta la parata da parte del numero 12 dell'euro 1942 è finita la partita finisce la partita sul risultato di 2-0 per l'euro 1942 sui danni del 2-work sport euro che mette la freccia e sorpassa gli ospiti e vola a 19 punti in classifica in classifica per l'euro a 19 punti di 2-0 per l'euro